Tarenti Cantores, eccoli qua, mamma mia, allora io ho qui la presidente dell'associazione Tarenti Cantores che è Alessandra Lombardo, Alessandra eccola qua, ciao Alessandra benvenuta, grazie di essere qua e poi c'è il maestro del coro, la direttrice Filomena Galeandro e poi abbiamo al piano Gaetano Frascella, giusto? Bene, grazie, benvenute, poi tutti gli elementi del coro che insomma siete tanti Siamo un bel po', abbiamo rimpito Infatti mi viene da spostarmi perché sinceramente non voglio coprire nessuno che cosa raccontaci di questa associazione? Allora la nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro proprio vogliamo promuovere la musica, siamo un'associazione corale di più o meno 34-35 elementi e siamo un coro polifonico, abbiamo un repertorio vasto che va dalla musica lirica alle classiche napoletane al repertorio degli standard americani Americani, ho sentito parlare prima anche di gospel, l'ho sentito bene? Sì sì, abbiamo anche fatto delle incursioni nel gospel Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello E tra l'altro leggo che avete inaugurato il Misterium Festival Sì, insieme all'Arcopu, che è l'associazione regionale dei cori pugliesi partecipiamo ogni anno all'inaugurazione del Misterium Festival con l'orchestra della Magna Grecia diretti dal maestro Gelmetti questo è oramai il terzo anno Ah, che bello, il coro Tarenti Cantores in Nessun Dorma Sì, insieme all'orchestra della Magna Grecia Eh, signora Oh, un principessa nella tua fedda stanza Oh, in piede stelle, la mia terza oramore e di speranza ma il mio mistero è chiuso in me il nome mio che son saprà con la sua brava bocca a 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 perché mi sono emozionata siete stati veramente bravissimi volevo posso avere un attimo il microfono quindi proseguiamo maestro con poi un medley di canzoni napoletane passiamo alla musica napoletana e volevo fare poi vi diciamo i titoli va bene va bene posso posso fare qualche domanda va bene alessandra l'abbiamo sentita la signora che come da quanto sono due anni che faccio parte di questo coro ed è un'esperienza bellissima emozionante e gratificante si vede l'ho vista nella performance mi è piaciuta moltissimo anche presissima come gli altri e quindi ma lei canta da prima due anni in questo coro si e poi faccio parte di un altro coro di chiesa da dieci anni ma la signora io io non sono un'espertissima e però lo ho visto che cantava in un modo un po' diverso dagli altri ha un ruolo diverso nel coro oppure no allora era l'impostazione che insomma va bene io non sono esperta ci sono che cos'è tenore soprano soprano perfetto allora andiamo avanti con l'esibizione quindi un medley napoletano giusto di musica napoletana grazie a tutti 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 No profuma così via, rindo cora se ne va Rindo cora se ne va E tu dici adorato a Dio A puntare da stu cora E tu dici adorato a Dio E tu dici adorato a Dio E tu dici adorato a Dio A puntare da stu cora E tu dici adorato a Dio 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 Anche tu la pace, il sole caggia. Buonissimo, buonissimo, e si esiguita anche il maestro, quindi abbiamo fatto una cosa completa. Alessandra, che cosa andiamo a eseguire invece adesso? Adesso passiamo all'altro genere che di solito cantiamo, uno standard americano, Moon River, preso dal film collezione da Tiffany, in versione corale. Wow, bene, a voi la parola. Grazie. 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 L'applauso della regia ci voleva perché effettivamente io da sola il mio applauso non poteva bastare. Io veramente non so come ringraziarvi, non riesco a mettermi di spalle, non ce la posso fare. Però qui mi fanno, mi siarrabbiano, io devo stare qua per forza. Volevo ringraziarvi tutti, complimenti veramente, ci avete regalato delle emozioni non solo qui in studio ma anche sicuramente chi ci ha ascoltato da casa.